Frontex manda un segnale, c'è una nave che corre a sei nodi, che non lancia nessun SOS e quindi interviene la Guardia di Finanza, perché la Guardia di Finanza è di contrasto all'immigrazione clandestina. Ci fosse stato un soccorso, sarebbe intervenuta la Guardia Costiera, che è deputata ai soccorsi, perché così funziona. Questo è il tema, così si sono salvate 27.457 persone in 453 soccorsi. Qui è successa una tragedia immane, le cui responsabilità verranno verificate dalla magistratura, che ha aperto due fascicoli. Una, senza puntare il dito su qualcuno in particolare, ma che tende a chiarire una situazione, che ha visto morire delle persone e che giustamente va fatta. Dall'altra parte però c'è l'altra questione, che è molto più importante, che riguarda noi ma riguarda anche l'Europa, di fermare una volta per tutte il traffico degli scaffisti. Se noi ci non concentriamo su questo, distogliamo la nostra attenzione, anche solo parzialmente rischiamo di non fare un favore né a chi parte e nemmeno a chi deve gestire questo grandissimo business e tema, che è quello dei migranti.